Come annunciato due settimane fa, si sono dati appuntamento oggi presso il comune di San Benedetto i rappresentanti degli enti pubblici interessati alla messa in sicurezza del fiume Tronto. I due sindaci coinvolti, Gaspari per San Benedetto e Di Salvatore per Martinsicuro, si sono riuniti con i presidenti delle due province interessate, Massimo Rossi per quella di Ascoli ed Ernino d'Agostino per quella di Teramo. Abbiamo fatto passi da gigante, hanno confermato i presenti. Sentiamo quindi le novità proprio da Massimo Rossi. Stanno partendo finalmente, dopo aver risolto una serie di problematiche anche legate agli espropri delle aree dove esistono aziende, stanno partendo lavori per il rifacimento del ponte Anas, importante infrastruttura e con esso anche altre importanti infrastrutture che miglioreranno e fluidificheranno la viabilità in un punto cruciale. Ci riferiamo alla rotatoria, alla conclusione della strada provinciale bonifica sulla statale 16 che consentirà il miglioramento di quella situazione e i cui lavori inizieranno a brevissima scadenza. Da qui a un mese vedremo il cantiere attivarsi. Nel 2010, con le risorse disponibili e senza richieste di ulteriori finanziamenti, avremo la messa in sicurezza del fiume, ha continuato Rossi. Ed anche il presidente provinciale Teramano d'Agostino conferma gli importanti passi avanti compiuti. Posso confermare, visto che la provincia di Teramo sta seguendo i lavori per conto dell'autorità di Bacino del Tronto, che nell'arco di 15 giorni partiranno i lavori per la realizzazione della rotatoria statale 16 e provinciale 1 del Tronto. I lavori potranno essere completati poi nell'arco di un mese. L'obiettivo finale è comunque suggestivo per la zona a confine tra le due regioni. Un collegamento ciclo pedonale sul fiume Tronto, che metta in correlazione la costa Picena con quella Teramana. Immaginare un continuum di piste ciclabili che da Cupra Marittima arrivi fino alle soglie di Pescara. Intervento questo di valenza strategica, non solo per la qualità della vita dei cittadini, ma anche per accrescere l'attrattività turistica sia della costa Picena che della costa Teramana.